Buongiorno, eccoci qui al nostro appuntamento con un confronto in materia scientifica. L'abbiamo intitolato La scienza al tempo di internet. Dunque, questo confronto si tiene a cura dell'Istituto di Genomica Applicata dell'Università di Udine, diretto da Michele Morgante, che è nel nostro comitato scientifico un docente dell'Università di Udine. Quest'anno si tiene anche in collaborazione con l'Associazione Alumni della Scuola Superiore dell'Università di Udine, che ringraziamo, ed è sostenuto da Europa Bio, come dici tu. Chi c'è qui sul palco? Siamo intanto dei personaggi che si occupano professionalmente, scientificamente, del tema del contagio, delle false verità scientifiche. Alison Abbott scrive sulla rivista prestigiosa Nature in tema di politiche scientifiche in Europa, dalla sua postazione di Monaco. È una farmacologa e ha ricevuto molti premi per i suoi articoli su Nature e per la sua attività. Walter Quattrociocchi insegna a Caffoscari a Venezia e anche lui si occupa di disinformazione scientifica, giusto? E ha scritto, e soprattutto della disinformazione che avviene in internet, ha scritto un libro intitolato Liberi di crederci. E infine abbiamo Giuseppe Tipaldo, che insegna all'Università di Torino una disciplina che non sapevo nemmeno esistesse. Ah, non esiste, però si chiama così, ed è Sociologia delle Pseudoscienze. E ha pubblicato, e proprio in libreria in questi giorni, appunto, la Sociologia delle Pseudoscienze. E devo dirvi ancora che in cabina, per la traduzione simultanea, abbiamo i nostri fedelissimi e bravissimi interpreti, Paola Gringiani ed Enrico Varesco. Grazie e buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Ovviamente ringrazio anche l'Associazione degli Alunni della Scuola Superiore, che appoggia questa iniziativa, e Europa Bio, che l'ha anche supportata finanziariamente. Sicuramente. Negli anni precedenti avevamo, sempre nello stesso luogo, alla stessa ora, tenuto una serie di dibattiti che trattavano temi specifici relativi alla scienza. Giusto per ricordare, gli ultimi due anni abbiamo parlato di cellule staminali del loro utilizzo, abbiamo parlato lo scorso anno di nuove terapie mediche innovative e la possibilità che queste possono andare a produrre nuove disuguaglianze nella società. Quest'anno invece ci teniamo su un tema più generale, ossia come si deve comunicare la scienza al tempo di Internet e cosa sta succedendo alla comunicazione scientifica in Internet. È ovviamente un tema complesso, lo cercheremo di sviscerare con i nostri ospiti. La scienza ha un rapporto sicuramente positivo con Internet, la scienza ha inventato Internet. Sono trent'anni esatti che gli scienziati del CERN hanno inventato il World Wide Web. È stato un sottoprodotto di quella ricerca fondamentale che spesso porta a risultati inattesi e che dovrebbe essere finanziata proprio per questo. E la comunità scientifica è stata la prima a utilizzare Internet, che per la comunità scientifica è uno strumento di lavoro, che ha portato enormi vantaggi. Scambiare dati, scambiare pubblicazioni, scrivere email, essere continuamente in contatto. E questo ha portato la comunità scientifica sempre più ad abbracciare un modello di scienza e innovazione aperta. Però, a fronte di tutti questi indubbi vantaggi che Internet ha portato per quello che riguarda le comunicazioni entro la comunità scientifica, si è aperto il problema di ciò che Internet ha cambiato quando la scienza deve aprirsi all'esterno e quando i temi scientifici devono essere comunicati al pubblico. Indubbiamente, se pensiamo al passato, per chi abitava in un piccolo villaggio, i referenti scientifici erano principalmente il medico e il farmacista. e le loro opinioni non venivano mai messe in discussione. Avevano un'autorevolezza tale che forse possiamo dire che era eccessiva. Oggi, nel villaggio globale in cui viviamo, siamo forse arrivati all'esatto opposto. Tutto e tutti vengono messi in discussione e, secondo alcuni, le opinioni sono tutte equivalenti, che si tratti di esperti o di non esperti. Ovviamente, per la comunità scientifica, che si è sempre basata sul valore degli esperti e dell'esperienza, questo pone tutta una serie di problemi. In più, una delle tendenze dei nostri tempi è ovviamente quella di mettere in discussione le cosiddette élite intellettuali. La comunità scientifica, in un certo senso, è emblematica di un'elite intellettuale. Quindi, il suo ruolo oggi viene messo fortemente in discussione. Quindi, le cose di cui parleremo riguarderanno, ad esempio, se c'è ancora spazio per chi in campo scientifico vuole dare dei pareri che non sono opinioni, ma sono pareri scientifici basati su evidenze scientifiche e su autorevolezza, e che spazio ci può essere per le tradizionali roccaforti del sapere scientifico, come le accademie, le società scientifiche, ma anche come riviste prestigiose come Nature, che esistono da 150 anni esatti. Questo è il 150esimo compleanno della vostra rivista, che è nata nel 1869, e che ha sempre goduto di grande autorevolezza. E cosa la comunità scientifica può fare per far arrivare i giusti messaggi alle persone e anche per riuscire a smontare certe false verità che, visto che parliamo di contagio, si diffondono molto rapidamente attraverso Internet e rispetto alle quali i tradizionali metodi che la comunità scientifica ha sempre usato, che sono quelli del fact-checking e del debunking, potrebbero mostrare delle difficoltà. Quindi vorrei iniziare facendo a tutti e tre i nostri ospiti la stessa domanda, che è una domanda molto generale. E vorrei partire da un articolo che Giulio Giorello, un filosofo della scienza che abbiamo avuto ospite qua un paio d'anni fa, aveva scritto sul Corriere della Sera nel 2014, dove Giulio vedeva positivamente, a parte riconoscere ovviamente tutti i problemi, l'utilizzo della rete e il ruolo che Internet può avere nella comunicazione scientifica, perché diceva che potrebbe aiutare a produrre e diffondere una conoscenza consapevole e condivisa e soprattutto potrebbe far uscire i ricercatori da quelle profonde trincee disciplinari in cui per molto tempo sono stati arroccati. Allora, quello che vorrei chiedere ai nostri ospiti partendo da Alison è se dalla comunicazione scientifica nell'era di Internet vedono più rischi o più opportunità e quali sono eventualmente i rischi ed opportunità che vedono. naturalmente ci sono sia vantaggi che svantaggi chiedo scusa sono un po' confusa all'inizio per la voce che viene trasmessa qui in sala dal punto di vista dei vantaggi i vantaggi sono chiaramente molto importanti ci sono i dati i dati sono immediatamente accessibili senza dover attendere per quanto riguarda gli svantaggi sostanzialmente sono gli stessi nel senso che i dati sono immediatamente disponibili e possono reagire e rispondere senza avere il tempo di digerirle queste informazioni Walter dal tuo punto di vista ok in italiano giusto allora dal mio punto di vista io penso che Internet sia stato un cambiamento fenomenale nonostante sia demonizzato dai molti è vero ci sono stati degli effetti collaterali ci sono state delle problematiche per quanto riguarda la comunicazione e la produzione ma non soltanto della scienza ma di più ampio spettro su tutte le tematiche perché in qualche modo si è dato accesso all'informazione e ovviamente adesso stiamo sviluppando gli anticorpi per in qualche modo interagire in questo sistema diciamo che fondamentalmente i nostri studi c'è un gruppo di ricerca a Venezia che ha fatto degli studi che sono utilizzati ad oggi dal World Economic Forum per la mappatura del sistema della disinformazione quello che viene fuori fondamentalmente è semplice cioè c'è un mare magnum di informazione molta di più di prima pesco l'informazione che più aderisce alla mia visione del mondo trovo persone che più o meno sono finite lì per lo stesso motivo perché cercavano le stesse informazioni quindi si crea un sodalizio tra individui insieme cooperiamo per strutturare rinforzare la narrativa condivisa quindi scientisti con scientisti vegani con vegani esistenzialisti con esistenzialisti chi si somiglia si piglia si trova su internet e diventa amico si collabora per strutturare una narrativa condivisa prendiamo le informazioni che aderiscono alla narrativa come buone non ce ne frega nulla se siano vere o false perché sappiamo che il dato è destrutturato c'è tutto un lavoro di decostruzione che viene dal novecento che ha fatto dei danni mostruosi e poi entriamo in un contesto in cui se qualcuno ci arriva e ci dice che abbiamo torto la risposta è di polarizzazione resistenza ignoriamo le informazioni a contrasto questo rende molto difficile il veicolare l'informazione in maniera orizzontale perché se l'informazione in qualche modo è soggetta a una sfiducia mistrust rispetto all'istituzione e ad oggi diciamo abbiamo fatto un altro studio che misura un po' come vanno le fake news rispetto alla sfiducia in vari paesi europei e quello che troviamo che più è bassa la sfiducia meno fake news ci sono in giro i campioni della polarizzazione della sfiducia sono l'Italia e la Francia Spagna e Germania invece se la passano un pochino meglio quindi c'è proprio un problema di cambiamento di rapporto sociale tra istituzioni e chi ne fruisce chi ne fruisce non si fida chi fa la parte dell'elite a volte si dimentica che è un elite che fa un servizio a delle persone e parla dalla cattedra e quindi questo uscire fuori dal ruolo di uscire dalla torre d'avorio secondo me è un ottimo incentivo per la scienza perché deve imparare a comunicarsi in Italia siamo molto attivi nell'ambito della comunicazione della scienza per varie attività adesso c'è il Science and Food Festival a Mantua c'è una fortissima fermento nell'ambito della comunicazione scientifica che va nella direzione di rompere quella sfiducia e ricreare i punti di comunicazione tra chi la scienza la fruisce e chi la fa Giuseppe innanzitutto buongiorno dal punto di vista del sociologo questa domanda è complessa è complessa perché se per sociologia e scienze sociali intendiamo quella disciplina che si è consolidata da Max Weber in avanti cioè l'adozione del metodo scientifico e del ragionamento scientifico nello studio delle società umane il più grande ammonimento che Weber ci lascia è che questo esercizio scientifico deve essere avvalutativo è anche vero che è veramente impossibile essere avvalutativi soprattutto quando parliamo di oggetti che hanno un potere e un valore una valenza sociale così estesa anche solo parlarne è un atto politico è un atto sociale il secondo criterio è che capite bene che internet è tante cose quindi che cosa abbiamo in mente abbiamo in mente l'internet che consente a Walter a Ellison a me a Michele e a tutti voi potenzialmente di documentarvi per scrivere un libro un articolo scientifico senza neanche uscire dal vostro ufficio il mio ultimo libro ha circa 20 pagine di bibliografia ma ho anche dei difetti e nessuna delle voci di queste 20 pagine di bibliografia è stata consultata in maniera cartacea anche se io e l'editore siamo stati fermi nel voler stampare soltanto in cartaceo il libro e non produrlo in formato elettronico quindi come dire ho dei conflitti interiori che dovrei risolvere in una seduta psicanalitica evidentemente però da autore è stato molto comodo avere internet e poter non perdere tempo a sfogliare centinaia di pagine ma poterle cercare direttamente nei fogli elettronici questo è stato comodissimo per citare gli autori per capire i dati per controllarli per verificarli per rielaborarli ad esempio io ho tirato giù decine di indagini dell'eurobarometro in formato csv e le ho rielaborate grazie al fatto che questi dati su internet sono pubblici è una delle cose che ci dona l'essere europei e che non c'è bisogno di chiedere il permesso a nessuno per poterli consultare rielaborare e produrre nuova conoscenza a partire da loro è chiaro che se abbiamo in mente il fatto che questa internet nata con il world wide web di 30 anni fa oggi si sta trasformando in una sorta di grandi feudi invece proprietari black box che è difficile compenetrare se non addirittura impossibile che hanno illuso miliardi di persone del fatto che è sufficiente avere un dispositivo come questo e quindi tutto sommato basta che risparmi mille euro anche a rate e diventi l'equivalente di che ne so mentana pippo baudo degli anni 80 cioè che puoi diventare emittente in qualunque momento perché hai i mezzi per poterlo fare beh questo sì che è un rischio e concludo il rischio è quello e purtroppo è già successo di aver illuso queste schiere e mi ci metto dentro anche io perché all'inizio di questo evento ho fatto un live per raccontare alle persone che sono nella mia rete che sono qui perché questo è un evento prestigioso a me come dire fa piacere essere qui e quindi l'ho dovuto raccontare però ci ha illuso come altra faccia della medaglia del fatto che tutti possono parlare con tutti su qualunque argomento e purtroppo alla pari il che è falso grazie una comunicazione di servizio per la regia se potete abbassare leggermente il volume di questi speaker perché penso sia quello che rende un po' difficile per Alison parlare con la traduzione Alison Nature come abbiamo detto ha 150 anni c'era prima di internet c'è con internet probabilmente ci sarà anche dopo internet ma sicuramente una rivista come Nature che è una rivista tradizionale oltre che estremamente prestigiosa ha dovuto adattarsi all'arrivo di internet quindi quali cambiamenti avete dovuto fare per adattarvi al sviluppo di internet e dei social media che presenza avete voi su questi strumenti di comunicazione come li vedete come cercate di utilizzarli oppure vi limitate a fare da cane da guardia che controlla e giudica e critica quando ho iniziato a lavorare con Nature 28 anni fa tutto era scritto sulla carta io ero l'unica dipendente di Nature ad avere un computer e ad utilizzare la mail Nature quindi piuttosto stranamente è stato piuttosto lenta nell'adottare la tecnologia e utilizzare internet adesso Nature è un leader mondiale perché è cambiato tutto l'aspetto economico di questo settore dell'editoria scientifica noi non siamo soltanto un cane da guardia che sta lì a controllare e criticare stiamo cercando di promuovere nuove strade per proseguire il mondo è cambiato enormemente per noi abbiamo due aspetti di Nature abbiamo la parte in cui gli scienziati pubblicano i risultati della propria ricerca deposano i propri dati li rendono disponibili affinché altri possano interagire ma questo è completamente diverso dagli studi tradizionali che avrebbero potuto essere pubblicati 20-30 anni fa ho ricercato alcuni autori Nobel che avevano pubblicato su Nature prima della guerra e quegli studi sono sorprendenti perché dal punto di vista della comprensione sono incomprensibili e questo è inaccettabile oggi adesso è necessario superare le barriere di comprensibilità anche per Nature che è una pubblicazione estremamente selettiva e questo ha messo enorme pressione sugli scienziati abbiamo però anche la prima linea di Nature per così dire che riguarda la divulgazione scientifica la comunicazione della scienza quello che io scrivo di quello di cui io mi occupo come giornalista e ancora una volta internet ha veramente mutato lo scenario c'è moltissima disinformazione e noi dobbiamo impegnarci moltissimo per poter presentare lo stesso tipo di verità e articoli scientifici che pubblicavamo in passato giusto per chi non è del settore la cosa ad esempio a cui si riferiva Alison credo fosse il fatto che Nature per il prestigio che ha cerca di pubblicare articoli brevi per poterne inserire quanti più possibili mentre in passato c'era l'articolo e basta oggi uno pubblica l'articolo di 2.000 4.000 parola a seconda del formato ma poi assieme a quello disponibile su internet ci sono 50 pagine che sono chiamate il materiale supplementare dove posso fornire tutto quello che nell'articolo non riesco a mettere indubbiamente questo rende per gli altri scienziati molto più accessibile la comprensione di ciò che è stato fatto quindi sicuramente internet ci ha aiutato volevo chiederti un'altra cosa che è delicata Nature naturalmente è prestigiosa però comunque cerca anche di attirare articoli che possono essere di interesse generale e che possono anche attrarre l'attenzione della stampa generalistica quanto siete preoccupati di voler in un certo senso stressare troppo quelle che possono essere le potenziali applicazioni o ricadute pratiche dei lavori che vengono pubblicati per riuscire a avere appeal presso la stampa generale questa è una domanda che ci viene rivolta molto spesso dal nostro punto di vista noi non facciamo una selezione degli articoli in base agli interessi del pubblico Nature fa parte dell'interesse del pubblico è un po' la tecnologia utilizzata al contrario gran parte della scienza non arriva a quello che è il dominio pubblico non arriva ai mezzi di informazione generalisti perché riveste degli interessi scientifici molto specifici noi proprio non la selezioniamo alcuna scienza perché ha un interesse generalista ed è questo che vogliamo difendere ma facciamo un esempio prendiamo le staminali 15 anni fa avevamo avuto il caso della pecora dolly c'era questa pecora sul mercato che era stata clonata una notizia sensazionale in tutto il mondo il giorno dopo tutti i giornali ne parlavano e poi è arrivata la prima accusa ci è stato detto che avevamo selezionato gli studi proprio in base alla risonanza che avrebbero ottenuti ma noi li abbiamo selezionati per l'importanza scientifica per il progresso scientifico che era stato realizzato non so magari mi metto un po' sulla difensiva ma per me che opero all'interno di Nature ebbene mi sento di dover respingere queste accuse è un commento in effetti magari una concezione errata ma volevo tornare alla tua prima osservazione se è cambiata Nature beh gli articoli sì effettivamente sono più concisi come ho detto prima se torniamo indietro nel tempo vediamo che in realtà c'erano addirittura articoli di 700 parole senza spiegazioni e approfondimenti e scritti da premi Nobel Walter hai menzionato questo meccanismo che si genera su internet di tribù che dialogano al loro interno ma non si ascoltano l'una con l'altra cioè puoi dirci qualcosa di più su questo funzionamento di quelle che tu chiami casse di risonanza sui social media e come questo influenza la comunicazione è la diffusione e il contagio delle informazioni scientifiche praticamente noi abbiamo cominciato nel 2014 ero a Boston nel 2013 a Boston e praticamente abbiamo cominciato a misurare quei fenomeni strani che succedevano su internet all'interno di movimenti politici nuove fruizioni culturali e nuovi meccanismi e praticamente abbiamo cominciato a vedere che informazioni particolarmente assurde particolarmente assurde si diffondevano come informazioni verosimili tipo non so quella del Pertini che dice quando il governo non fa ciò che il popolo vuole va cacciato con le mazze e con le pietre che ha fatto 3 milioni e mezzo di visualizzazioni nonostante sia stato smentito un sacco di volte dalla fondazione Pertini oppure il senatore Cirenga che propone di finanziare i parlamentari con 134 miliardi di euro in caso non venessero rieletti e da lì praticamente abbiamo scoperto una narrativa un mare magnum di informazioni che venivano create avevano uno stato embrionale nell'arco di poche ore diventavano virali e venivano fruite in un modo abbastanza diciamo caratteristico non era così diciamo caotico era abbastanza chiaro come si evolvessero queste cose al che abbiamo messo su una batteria sperimentale una batteria sperimentale che praticamente è stata messa in piedi prendendo Facebook Italia e Facebook Stati Uniti 3 milioni in Italia 55 milioni negli Stati Uniti e siamo andati a vedere come due campioni di informazioni informazioni fasulle palesemente false perché contenevano elementi che prendevano in giro la narrativa alternativa tipo se credi alle scie chimiche come reagisci ad un'informazione che dice che le scie chimiche contengono il Viagra nell'ordine di queste cose qui oppure se credi alle cure alternative tipo la cura naturale con bicarbonato limone e varie come rispondi ad un'informazione a un meme che ti dice che il limone è antiipnotico e che puoi curarci la congiuntivite ok quindi mettere il limone nell'occhio quando l'impatto è stato per noi molto divertente insomma è stata la parte più divertente della ricerca in quanto abbiamo visto che effettivamente nessuno validava la verità dell'informazione memorabile fu l'intervista di un noto politico che disse noi non sappiamo se quella informazione l'ha detta Cirenga l'ha detta Pertini però ci piaceva l'abbiamo condivisa perché in qualche modo aderiva al nostro credo e eccolo lì svelato l'arcano così funziona se poi tu vai lì e gli dici invece che le scie chimiche non esistono o che curare il tumore con il bicarbonato non funziona la reazione è semplicemente di essere ignorati motivo per cui il debunking fa difficoltà all'attecchire in quei contesti pochissimi interagiscono con informazioni a contrasto e allora siamo nell'ordine di una frazione del 4-5% su 10 milioni di persone ok quindi frazione molto bassa e ci hanno detto ah beh ma almeno per cui il 4-5% il lavoro ne vale la pena siamo andati a prendere questo 4-5% come era attivo sulle fonti di informazioni complottiste prima e dopo l'esposizione al post del debunking e troviamo un aumento dell'88% cioè se uno viene da te e ti dice che le sci chimiche non esistono tu sarai più attivo in media dell'88% rispetto a quanto lo eri prima quindi è un cortocircuito si chiama effetto backfire effetto rinforzo come se ne esce diciamo che il sistema se l'abbiamo capito riassumendo significa fondamentalmente che prima c'era l'alimentari e pescavamo quello che ci forniva il bottegaio adesso ci abbiamo l'ipermercato che è grosso un chilometro quadrato e possiamo prendere qualunque tipo di prodotto ci piace di più e finiamo là e troviamo altre persone che sono finite lì per lo stesso motivo ci sposiamo la narrativa condivisa per totem e applichiamo un comportamento tribale attacchiamo gli altri con i totem ballate che l'atteggiamento di una fetta della comunicazione della scienza ad oggi in Italia adotta esattamente lo stesso comportamento tribale che utilizzano gli antagonisti complottisti io sono dalla cattedra tu devi stare zitto perché io sono laureato questo non ricostruisce la fiducia se io vado da una mamma che ha una sua sfera cognitiva che è in qualche modo antagonista alle vaccinazioni piuttosto che aggredirla e darle l'idiota dovrei cercare almeno in linea di massima di capire quali sono i meccanismi che l'hanno portato da quella resistenza quindi è un lavoro interdisciplinare che in qualche modo travalica le barriere disciplinari tra informatica data science io sono un informatico statistico ok lavoro con sociologi c'è un mare magnum di persone che lavora a questo tema un altro problema enorme è che sul dibattito sulle fake news in particolare che io abborro odio proprio come termine si è creata un'altra narrativa fittizia pari e tale quale a quella delle fake news che crea un terrorismo rispetto ad un cambiamento che in sé ha un potenziale enorme che è quello di internet l'idea di dire regoliamo i contenuti che circolano online perfetto però c'è tutto un problema etico cioè censuriamo tutto quello che è falso siamo sicuri che non dovremmo chiudere pagine tipo adesso sarà impopolare tipo la pagina del Vaticano come facciamo a dire che quella ha più valore di altre rispetto a queste questioni cioè dobbiamo uscire dalla dialettica vero o falso perché gran parte delle risposte scientifiche spesso è non lo so dipende da con una certa probabilità il giornalista medio non è in grado di spiegare questo tipo di processi la probabilità e la complessità non li concepisce quindi nel momento in cui si trova a dover raccontare la scienza spesso gli dice scoperta la nuova cura che ti rende immortale perché il meccanismo del mercato il business model è dominato dal numero di like quindi tribù che devo attirare accendere attivare eccitare proponendo una visione narrativa che sia più aderente possibile alla loro visione del mondo solo per dare un dato in Italia il consumo di informazione alternativa è tre volte il consumo di informazione scientifica ok cioè sono tre volte di più quindi c'è un problema di fondo che in qualche modo lo stiamo affrontando nella maniera corretta Giuseppe l'Italia si caratterizza per una serie di statistiche che non sono molto positive secondo un'analisi del 2017 dell'Ipsos sui pericoli della percezione noi fra tredici diverse nazioni siamo quella in cui i cittadini hanno la percezione più distorta della realtà secondo altre statistiche siamo quarti nel mondo e secondi in Europa quando consideriamo la frequenza di analfabeti scientifici abbiamo un problema indubbiamente di mancanza di cultura scientifica che deriva anche dalla forte tradizione che nel nostro paese c'è per le scienze umane che vengono in un certo senso valutate più e meglio delle discipline scientifiche è questo il motivo per cui in Italia la pseudoscienza sembra trovare un terreno così fertile perché in realtà a me sembra che nel tuo libro tu sostenga la tesi contraria perché tu dici che in realtà lo scetticismo verso la scienza è più diffuso fra chi ha un livello di istruzione elevato piuttosto che non fra chi non ce l'ha o il problema è che anche chi ha un livello di istruzione elevato comunque non ha una cultura scientifica siccome la questione è complessa è entrambe le cose il tema si può dipanare in tanti punti il primo punto secondo me è proprio questo le scienze sociali servono a partire dal senso comune per validarlo o meglio se possibile falsificarlo trovare spiegazioni più attendibili e quindi produrre strategie di governo della complessità migliori rispetto alle idee idiosincratiche che ognuno di noi ha e che legittimamente coltiva per cercare di orientarsi nella propria vita quotidiana se parliamo di pseudoscienza dei temi di cui Alison e Walter hanno già parlato e quindi non ci ritorno però dobbiamo renderci conto innanzitutto che laddove è stata testata questa ipotesi ha dato risultati o nulli statisticamente o contrarie alle attese per esempio quando io negli ultimi dodici anni ho studiato l'opposizione locale all'inceneritore di Torino ero circondato da attori politici proponenti degli impianti alcuni ingegneri che continuavano a dire che il problema era che dovevamo spiegargli che non faceva male poi tu provavi a spiegarlo e in realtà ottenevi l'effetto contrario di cui vi ha già parlato Walter perché dobbiamo capire che quando San Paolo va all'Areopago a convincere gli ateniesi dell'immortalità dell'anima e quindi fa predicazione cristiana è stato inizialmente accolto come un grande filosofo e profeta ma appena toccato quel tema gli ateniesi si sono girati atti degli apostoli non li so citare a memoria ma là dentro c'è e gli hanno detto ciao su questo ti ascolteremo un'altra volta cioè il problema della fiducia e della messa in discussione del cosiddetto emittente esperto rispetto ai tuoi pregiudizi o al frame cognitivo che ti sei costruito per sopravvivere in questo diavolo di mondo e dargli un senso precede di qualche millennio Facebook Facebook è diventato il supermercato da un chilometro quadrato questa me la riciclo è proprio quello il punto ora nel momento in cui noi abbiamo provato a testare con le batterie di domande standard che usa l'Eurobarometro e usano tutti i grandi istituti di ricerca pubblici e privati per testare la scientific literacy l'alfabetizzazione scientifica scoprivamo che nel caso dell'inceneritore di Torino comunque era un campione statisticamente rappresentativo della provincia di Torino quindi non era generalizzabile all'Italia ma quel territorio che aveva l'impianto sì ci diceva che non c'era una significatività statistica quindi quella variabile non era utile per scremare la spiegazione che volevi utilizzare ma che se fosse stata significativa il verso sarebbe stato opposto dove abbiamo scoperto da qualche anno ormai che il verso è opposto ed è statisticamente significativo nei vaccini in Italia ma non solo in Italia nel Regno Unito negli Stati Uniti la California è il principale paese no vax se fosse una nazione a sé stante ma è come fino a ieri sera al premio terzani abbiamo detto che quello è il paese dove ci sono i più grandi utili dove stanno dominando il mondo infatti il problema è proprio questo il problema è non una quantità di nozioni da trasmettere il problema è sociologico perché bisogna capire sulla base di quali variabili e dimensioni sociali minime questa conoscenza poggia e la variabile che spiega di più nei miei studi è la fiducia cioè e chiudo quando Almond e Verba i due politologi che hanno definito negli anni 50 quali sono gli ingredienti di base su cui poggiano le democrazie liberali di oggi per evitare di ricadere nei drammi da cui negli anni 50 eravamo usciti da meno di un decennio beh loro ci dicono che i due ingredienti fondamentali sono la cultura civica e l'orientamento parrocchiale lo chiamano proprio così l'orientamento parrocchiale è il fatto che tu cittadino ti senti libero ma non totalmente anarchico e hai un atteggiamento nei confronti del sapere costituito che sia il tuo amministratore di condominio il maestro o la maestra elementare che viene aggredita non appena smentisce le tue idee sul figlio sulla figlia perché devono essere premi Nobel ma contemporaneamente palloni d'oro questa pressione non avrà nessun tipo di conseguenza sulla loro psiche sulla loro crescita ma quella sgridata in più della maestra o quella bocciatura gli rovinerà la vita gli renderà dei serial killer questo è come dire l'impostazione generale dalla quale oggi ci muoviamo ma che sia una maestra o sia il tuo presidente della repubblica o sia il medico che ti sta dicendo di non guardare su google ma di fidarti di quello che ti sta dando il problema è che questo orientamento parrocchiale si è disintegrato e si è disintegrato a seguito di una grave crisi fiduciaria legata anche a delle buone ragioni uso questo termine del sociologo Raymond Boudon nei miei studi le buone ragioni sono che gli ultimi episodi di corruzione probabilmente sono di stamattina e io non ne ho aperto il giornale perché stavo facendo colazione con Angela Terzani che ho conosciuto e quindi non ho fatto in tempo a scrollare le notizie di oggi ma probabilmente stamattina c'è già qualche nuovo episodio di corruzione probabilmente c'è già non c'è già c'è sicuramente qualcosa che è sedimentato nei genitori nei nonni negli zii nei figli nei nipoti che hanno sentito parlare di tangentopoli hanno sentito parlare della stagione delle stragi hanno sentito parlare di giudici che saltano per aria hanno sentito parlare che è meglio farsi furbi hanno sentito parlare del fatto che delle cose sono oggettivamente successe queste non è che gli giustificano non gli creano un alibi ma gli danno una grande quantità di spiegazioni pronte all'uso per giustificare la loro ritrosia o la loro reazione aggressiva nei confronti del sapere perché quello che succede sui social poi Walter ce lo spiega nei suoi lavori non è che si dice vabbè non ti ascolto e si girano dall'altra parte come gli ateniesi è quella foto che io faccio sempre vedere ai miei studenti del bambino che mangia l'hamburger e di una signora italiana di 50 anni 60 anni con nome e cognome che gli dice spero che ti venga il tumore da grande cioè la reazione è di una violenza mortale nei confronti dell'alterità e questo è distruttivo di quell'equilibrio di cui parlano al nome verbo un po' mi preoccupa quello che hai detto perché se il fattore principale è la fiducia visto che molti chiamano la nostra la società della sfiducia mi sembra che siamo in una situazione in cui trovare una via d'uscita non è facile proprio per questo fino ad adesso abbiamo parlato dei problemi vediamo di cercare di pensare a quali potrebbero essere delle soluzioni appunto come facciamo a ricreare la fiducia sinceramente il problema che a me come scienziato preoccupa non è la fiducia in generale almeno che abbiano fiducia nella comunità scientifica quando si parla di scienza tradizionalmente la scienza opera con certe metodiche a cui ad esempio Walter ha accennato il fact checking il debunking vorrei chiedere a ciascuno di voi tre quale ruolo pensate possono avere questi metodi tradizionali di argomentare anche nei confronti del pubblico generalista e se ci sono altre cose che dovremmo fare per cercare di ripristinare questo rapporto basato sulla fiducia fra scienziati e pubblico vorrei toccare un punto che ancora non è stato sollevato perché secondo me è importante rispetto alla domanda che mi hai fatto quando parliamo di internet e della fiducia nella pseudoscienza rispetto alla scienza noi siamo esseri che si evolvono e si sono evoluti in virtù della paura ma facciamo un passo indietro e guardiamo l'Italia da quella che è la mia posizione che vivo all'estero c'è una risposta italiana diversa rispetto a questo fenomeno globale quello che non è ancora stato affrontato è che ci sono istituzioni che controllano le conseguenze di questa paura e di questa misinformazione queste istituzioni sono piuttosto deboli in Italia la scienza in Italia è forte ma il consiglio scientifico non viene ascoltato dalle istituzioni prendiamo l'esempio concreto delle staminali tutti ricorderanno il caso Stefanoni la cura stamina ti interroppo un attimo noi qui a Udine lo conosciamo perché Vannone era un docente qui all'università di Udine quindi la vicenda stamina in parte però l'abbiamo creato noi a Torino ti chiedo scusa ma l'abbiamo laureato in lettere gli abbiamo dato anche una cattedra a tempo di psicologia ma poi ha trovato più fortuna e qua Udine insegnava comunicazione persuasiva è proprio è l'esempio calzante come giornalista ho dovuto innanzitutto scoprire chi fosse Vannone e cercando su internet ho trovato che aveva questa posizione qui a Udine e non ci credevo era veramente incredula allora ho chiamato Udine e ho chiesto ma chi è? e nessuno mi poteva dare una risposta e questa è parte del problema le istituzioni non sono forti io credo che se avessi dovuto chiamare a Harvard avrei immediatamente ottenuto una risposta invece qui a Udine forse sapevano qualcosa forse avevano paura a parlare c'era questa paura quindi non vi devo spiegare chi è Vannone e che cos'è la cura stamina ma mentre facevo le mie ricerche la conclusione è stata che le organizzazioni scientifiche e le agenzie per il farmaco erano intervenute in modo assolutamente corretto ed appropriato mentre la magistratura e i politici non avevano ascoltato il consiglio delle proprie istituzioni scientifiche questo è il problema e questo è il problema che credo l'Italia abbia ci sono delle raccomandazioni adesso prodotte dal senato a seguito dell'inchiesta che ha avuto luogo su stamina e credo che questo possa portare a un nuovo approccio e che cosa stiamo facendo e che cosa si può fare le soluzioni è sempre quello è sempre la domanda che viene fuori il primo passaggio è destrutturante il primo messaggio è ragazzi non abbiate l'ansia da controllo il sistema è cambiato non tornerà mai più quello che era prima perché è andato oggettivo questo come se ne esce per esempio prima di tutto rompendo un po' le posizioni che abbiamo pregresse su questa storia per esempio capita spesso che ci siano genitori preoccupati per i figli adolescenti che condividono le fake news online poi fai i corsi per i licei vai per i licei per i ragazzi vai dai ragazzi spiegando i meccanismi i nostri bias come funziona il cervello e scopri che l'alunno ti dice guarda che chi condivide le fake news è mia mamma o mio papà ok quindi il mondo è molto più articolato di quello che ci narrano perché se guardiamo al mainstream media il problema contemporaneo sono le fake news è il dramma del mondo abbiamo scoperto nel 2016 che l'essere umano si lascia influenzare dalle emozioni piuttosto che dai fatti razionali lo sapevamo già da un po' prima forse pure dall'illuminismo era chiara sta cosa però in qualche modo ci ha preso ci ha colto alla sorpresa alla sprovvista Brexit Trump deve essere colpa di qualcuno se le cose non vanno come in qualche modo organizzato in maniera razionale diciamo la situazione è più complicata di così molto più complicata di così e per esempio il fatto che ci sia una relazione tra le informazioni che fruiamo e l'effettivo comportamento elettorale ancora scientificamente non è stato chiarificato abbiamo risultati contraddittori c'è chi dice sì c'è chi dice no addirittura c'è chi ha azzardato la definizione di fake news come tutto quello che devia dallo standard giornalistico cioè il 99% di quello che sta su internet tutto quello che sta su internet è meme è un'immagine che evolve è un qualcosa perché ci siamo dimenticati il primo principio per cui i social esistono è uno scopo ludico non di passaggio della verità poi che ci passino anche le informazioni è un effetto secondario di pigrizia ma sui social uno condivide i meme per ridere quindi come se ne esce prima di tutto prendendo consapevolezza del problema che non è le fake news ma la polarizzazione e il comportamento tribale che ne emerge nel momento in cui posso accedere a qualunque tipo di informazione e a qualunque tipo di narrativa e trovare altre persone che la pensano come me quello che deriva da questo come si diceva suggeriva Samantha Power ex ambasciatrice statunitense all'ONU parlando dei nostri lavori alla graduation ceremony di Yale molestamente dice che non dobbiamo parlare con gli altri per fargli cambiare opinione ma dobbiamo parlare con gli altri perché potrebbero pure aver ragione la saggezza delle donne al di là del razionalismo maschile entrare in comunicazione e ricreare quel tessuto di fiducia perché effettivamente il problema reale sembra essere questo scollamento tra l'elite che vive nella torre d'avorio e chi effettivamente pensa di subire i problemi o ha la percezione di subire i problemi perché non è detto che i problemi siano reali la percezione conta molto di più questo è un dato di fatto ormai come si fa noi stiamo lavorando in questa direzione abbiamo fatto un esperimento dove veicoliamo le informazioni di debunking e fact checking in diversi modi e per trovare un legame empatico con chi le fruisce cioè trovata l'ecochamber quindi il gruppo di riferimento trovato le narrative su cui si arrabbia su cui si accanisce trovare un modo di veicolare l'informazione in modo tale che sia in grado di abbassare quel livello di polarizzazione e i risultati non ve li posso ancora dire perché siamo sotto non disclosure agreement per via di un progetto però diciamo non sono netti non c'è un'idea chiara di come funziona abbiamo esteso questa ricerca alla comunicazione della scienza e stiamo cercando di capire come tematiche molto controversie come intelligenza artificiale vaccini e cambiamento climatico possano essere raccontate in maniera scientific sound cioè scientificamente sana perché se diamo retta a quello che dicono per esempio i giornalisti su un tema di intelligenza artificiale se voi ci fate caso parlano più i filosofi c'è gli informatici che l'intelligenza artificiale la fanno l'etica dell'intelligenza artificiale si è creato questo mostro terroristico che alla fine se uno va nella statistica spicciola scopre che è poco di più nella regressione lineare insomma c'è Pitagora più o meno come Marchingegno poi applicarla su tanti dati è molto potente ma avranno dei diritti potremmo siamo nell'ambito del dibattito fondamentalmente sulla fuffa perché ci piace molto fare questo approccio di scrittura creativa e in qualche modo questo è secondo me l'elemento più grosso di sfiducia del cittadino medio rispetto all'elite perché se uno comincia a parlare di fake news come il male del millennio la pestilenza e l'intelligenza artificiale come il male assoluto i vaccini come una cosa buona in qualche modo qualcosa non torna cioè perché mi devo fidare per forza questi dicono un sacco di supercazzole è il termine più utilizzato in qualche modo dobbiamo bypassare questo limite perché sono cambiate proprio le modalità di comunicazione è inutile che lo neghiamo la modalità di comunicazione è pervasiva il cambio di modalità va dalla politica alla scienza all'arte passa è trasversale e se non ci adeguiamo a questo marchigegno che è cambiato e impariamo ad ascoltare e avere un passaggio di comunicazione che considera l'interlocutore come un essere senziente probabilmente avremo vita breve questo messaggio mi chiedo come il traduttore abbia tradotto supercazzola comunque credo superbullshit immagino se non l'ha fatto lo brevetto io ma io comincerei a fare una domanda al pubblico che è questa solo per alzata di mano tanto è buio potete anche fingere cosa è successo di recente a Palermo vedete ma che domanda per alzata di mano è era per vedere se eravate pronti quindi per acclamazione chissà cosa è successo di recente a Palermo una professoressa prima di questa notizia che metterei da parte per non aprire un grosso dibattito sul quale mi farebbe piacere dire delle cose ma non è attinente a te qualche giorno prima di questa triste vicenda qualcuno sa cosa è successo a Palermo questa è la spiegazione di come funziona l'agenda setting perché in realtà probabilmente molti adesso diranno ah sì è vero i terrapiattisti il convegno mondiale però l'evento della professoressa era molto di più nel loro frame cognitivo e ha contribuito a scalzare di botto il convegno di cui sicuramente hanno sentito parlare per occupare invece c'è completamente la loro attenzione con questa urgenza però di questa vicenda del terrapiattismo siamo tutti edotti anche se a Palermo nessuno di noi probabilmente è stato di recente perché i giornali ma non i giornaletti ho detto tipo chi visto l'ercio con tutto il rispetto l'ercio è un grande giornale ormai è diventato probabilmente la più autorevole testata che abbiamo in Italia ma anzi ha questa capacità di predire anche il futuro ormai che è angosciante e divertente allo stesso tempo ma perché i grandi giornali ne hanno parlato allora io polemicamente nel mio piccolo ho fatto notare a quei pochi giornalisti che conosco ma ammesso che fosse rilevante parlarne la prima volta ma perché scusate che mi arrabbio perché diavolo ne avete parlato per cinque giorni di fila fino a che appunto a Palermo non è successa un'altra cosa ben più grave su cui avete fatto benissimo a tenere alta l'attenzione ma del terrapiattismo dopo che mi hai fatto mezzo trafiletto ammesso che fosse rilevante e me lo devi dimostrare perché è rilevante perché io onestamente da studioso della comunicazione non l'ho capito perché è rilevante perché se voglio scherzare scherzo su l'ercio tu stampa tu corriere della sera non mi devi far vedere quello come una nota di folklore perché le cose sono due o non hai capito come funziona la comunicazione oggi ed è grave ma secondo me la cosa è peggiore tu l'hai capita e non hai trovato ancora il modello di business per stare in piedi e quindi stai usando qualunque cosa per fare clickbaiting ma il clickbaiting va eliminato dalle testate basta grazie il vostro applauso mi riscalderà quando qualunque proposta di articolo su qualunque quotidiano italiano mi verrà rifiutato con un grosso meme di un dito medio grazie ma d'altronde io torno da Napoli dove ho detto che ero juventino capite che come dire proprio quella parte di Umberto Eco sulla captazio benevolenza non l'ho letta a leggere l'arte della guerra ora la questione è innanzitutto questa la seconda la seconda questione è come possiamo essere propositivi beh io non mi aspetto che la mammina informata il papino frustrato reagiscano nella direzione che si aspetta un burioni dei tanti che adesso sono emersi e va benissimo che ci siano non è nulla da dire né da polemizzare ognuno è giusto che decida di comunicare la scienza come meglio crede purché come dire sia consapevole dei risultati a cui quel tipo di comunicazione lo può se il risultato è quello di risvegliare l'orgoglio come Fantozzi che dice la corazziata Potionchi è una cagata pazzesca con i 92 minuti di applauso va bene se il risultato è dialogare aprire un canale comunicativo solido con i dubbiosi non è quello il modo nel senso non penso che Gandhi insegnasse la pace facendo un corso di cinture nere di karate però non c'è dubbio che anche quel modo può funzionare indirettamente per risvegliare ad esempio l'orgoglio di scienziati che erano caduti in una spirale del silenzio quindi il mio non è un attacco a burioni ma la questione essenziale è perfettamente questa non mi aspetto che il destinatario finale si muova perché usa facebook per avere quelle conferme di cui Walter ci parlava prima io mi aspetto che siano i mezzi di comunicazione di massa tradizionale che smettano di vagare e brancolare nel buio e prendano delle posizioni che inserti scientifici riportino articoli sull'omeopatia o trattino il tema delle diete come lo potrebbe trattare una qualunque fattucchiere o un fattucchiere per strada questo è un problema perché non puoi chiamare quello inserto scientifico lo devi chiamare pseudoscientifico supercazzola lo devi chiamare ho bisogno che mi compri questo giornale perché devo sfamare la mia famiglia va bene tutto purché tu non usi la parola scienza nei miei lavori propongo infatti non il debunking scientifico di nuovo attività utile ma soprattutto per confermare chi ha furia di ricevere supercazzole si è spaventato mia moglie che il giorno in cui siamo andati a vaccinare il mio bimbo quando ci hanno chiesto se volevamo fare anche il rotavirus lei era per il no perché gli hanno detto che era facoltativo e abbiamo dovuto litigare per farglielo fare ma mia moglie non è una novax ma investita di tutte questa comunicazione era oggettivamente spaventata per un cucciolotto che ci aveva qualche mese di vita io mi aspetto che il debunking sia innanzitutto un debunking sociale il debunking sociale è rivolto ai media cioè ai mediatori se ancora servono devono fare questo lavoro non soltanto fornire la verità scientifica che è una verità con la v minuscola è una verità che ha permesso a Lancet di pubblicare l'articolo di Wakefield non sto dicendo che Lancet ha sbagliato a pubblicare un articolo falso perché si è scoperto dopo che era falso dico che Lancet come diavolo fa a pubblicare un articolo con dodici casi quando io ai miei studenti triennali che non sono scienziati ma sono scienziati sociali gli dico che se vogliono fare un campione statisticamente rappresentativo non sono in grado di fare quella tesi perché non hanno i soldi per crearlo un campione rappresentativo come diavolo fai a parlarmi di un rapporto probabile tra malattie intestinali tra l'altro non tra autismo e vaccino MMR la trivalente con dodici casi su due miliardi di giovani che esistono nel mondo era lì il fallimento del mediatore il mediatore deve lavorare non solo sul contenuto ma sul metodo e sul metodo magari avremo tempo dopo però io ve la butto lì esiste un linguista russo che nei primi decenni del novecento scoprì come Fantozzi con gli sfilatini quando la moglie lo tradiva con il nipote del fornaio avevo promesso ieri sera a cena che l'avrei fatta questo riferimento e le promesse vanno mantenute beh esattamente come quel momento fantoziano Vladimir Prop intuisce che forse le fiabe che gli hanno raccontato da bambino erano come dire sempre lo stesso impasto che ogni volta veniva trasformato in qualcosa di diverso allo scopo di catturare ogni notte l'attenzione del bambino ma i meccanismi di senso erano gli stessi ecco se avremo tempo proporrò come usare questo modello per cercare di fare un altro tipo di debunking sulle strutture narrative non sui contenuti scientifici Alison hai sicuramente toccato un argomento importante credo anch'io che uno dei problemi che abbiamo specifici che abbiamo in Italia è questa debolezza delle istituzioni e soprattutto questa loro scarsa volontà di fare riferimento a quelle che sono le voci scientifiche autorevoli due sere fa era un dibattito col presidente della commissione agricoltura del senato e questo in pubblico ha detto che il cambiamento climatico non è dovuto all'uomo e vabbè ma fa freddo fuori piove hai giustamente sottolineato anche il cortocircuito giudiziario che è un problema enorme perché se i giudici come ad esempio oltre che nel caso Stamina dove 50% dei giudici decideva in un modo 50% nell'altro nel caso Xylella sono andati dietro alle fake news quindi giustamente il cittadino potrebbe dire se il giudice crede alle fake news perché io non dovrei crederci è il primo lui che non fa riferimento a quelle che dovrebbero essere le voci autorevoli mi ha fatto piacere quello che ha detto Giuseppe perché per noi scienziati diamo sempre la colpa ai giornalisti quindi in effetti in Italia poi c'è anche un problema non col giornalismo scientifico ma con i giornalisti scientifici che scrivono sui giornali generali che secondo me in genere non fanno un buon lavoro anche perché poi le rubriche scientifiche le hanno quasi tutte eliminate quindi c'è veramente poca informazione scientifica vorrei innanzitutto che tu facessi un commento sull'informazione scientifica sui giornali generalisti in Italia rispetto ad altri paesi credo che nei paesi anglosassoni ci sia una tradizione sicuramente più solida in quel senso ma poi vorrei capire da te secondo te quale potrebbe essere la soluzione per cercare di fare in modo che le istituzioni siano più forti dal punto di vista delle fonti scientifiche a cui fanno riferimento dobbiamo essere noi scienziati essere più proattivi dobbiamo essere noi Accademia dei Lincei a cercare di farci sentire di più dai politici l'altro giorno il nuovo presidente dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi persona straordinaria ha detto dobbiamo aprire una pagina Facebook a me fa un po' paura conoscendo i colleghi degli 85 anni che si mettono a giocare con Facebook non so se sia la soluzione giusta speriamo di prendere un esperto di comunicazione ma comunque due gattini e si risolve tutto la qualità scientifica è migliore in Italia o peggiore rispetto ad altri paesi nella stampa generalista la mia risposta è no io vivo in Germania vengo dal Regno Unito ho conosciuto quindi diversi paesi ho visto quello che viene prodotto dai mezzi di informazioni italiane la situazione è un po' la stessa ovunque ci sono degli organi di grande qualità che fanno comunque degli errori ma in genere riflettono in modo appropriato la verità ma non hanno un grossissimo seguito di pubblico e poi abbiamo riviste pubblicazioni che sono meno precise magari più popolari ora in Italia secondo me ci sono buone fonti che hanno maggiore diffusione il problema è da ricercare altrove comunque la mia risposta è che non esistono differenze significative rispetto ad altri paesi poi cosa fare due cose quando si parla della scelta operata dai mezzi di informazioni se i mezzi di informazioni dovrebbero riportare il problema dell'insegnante oppure del convegno internazionale dei terrapiattisti dovrebbe esserci più storie scientifiche sui mezzi di informazione ora la selezione può risentire di quelli che sono i vostri sforzi di scienziati spetta a voi trovare qualcosa di interessante da dire in modo che una storia possa uscire sui mezzi di informazione la mia critica da un punto di vista generale rispetto alle comunità scientifiche e accademiche di tutti i paesi è che queste comunità non sono proattive nel loro approccio non si vedono come portatrici di una responsabilità nel promuovere un dibattito nel dar vita a un dibattito nel dare i mezzi di informazione qualcosa su cui lavorare l'Accademia dei Lincei ricordo qualche anno fa credo che ci sia stata qualche celebrazione dei 700 anni o i 500 anni non ricordo e in quell'occasione ho fatto un raffrotto fra l'influenza esercitata dai Lincei rispetto ad altre accademie l'Accademie de France e altre accademie di altri paesi e devo dire che questo confronto è stato piuttosto orripilante però se lo riconsidero e se considero gli ultimi dieci anni devo dire che la situazione è migliorata e sotto Parese credo che la situazione sarà completamente diversa ed è importante che queste accademie si facciano cara delle prossime responsabilità ribadiscano la verità ribadiscano di non aver paura di dire la verità ribadiscano di non aver paura di offendere di urtare la sensibilità di alcuno nel ribadire la verità I problemi sono tanti perché a proposito dell'Accademia dei Lincei anch'io sono convinto che Giorgio Parisi farà un buon lavoro per cercare di restituire quel prestigio che l'Accademia Nazionale delle Scienze si merita però io sono rimasto allibito quando proprio Giorgio Parisi ha raccontato che parlando con il nostro Ministro della Salute e raccontandogli cos'è l'Accademia dei Lincei e cos'è che fa il Ministro ha detto che è un medico fra l'altro ha detto ah bellissimo belle cose non sapevo che voi esisteste Walter tu hai prima accennato al tema della censura indubbiamente la disponibilità dei social media dà una voce a chiunque anche a quelli che in passato si potevano far sentire solo dai loro vicini tutt'al più i matti quelle che hanno idee strane eccetera oggi effettivamente sui social media uno vale uno e c'è questo sistema di amplificazione quando si parla di scienza tu sei proprio convinto che non ci debba essere censura voglio dire Facebook ce l'ha raccontato anche ieri si era Gadlerner in Italia ha appena chiuso una serie di siti che avevano 2,4 milioni di followers che diffondevano notizie false a proposito per esempio questa è una fake news nel senso Facebook ci stiamo lavorando c'è il motivo per cui hanno chiuso le 24 pagine perché avevano fatto una migrazione di follower che non potevano fare poi è diventata per la stampa picchi per chi aveva fatto la proposta un motivo di hype mediatico dicendo che erano vicini a un determinato partito politico e diffondevano fake news il motivo reale era un altro ognuno utilizza nelle sue argomentazioni fake news per spostare la verità politica da una parte all'altra e nell'ambito scientifico il problema secondo me non è ben posto piuttosto che il discorso di censura perché stiamo dentro la torre d'avorio e lasciamo che ci sia un vuoto che altri occupano questa è un po' la mia idea perché è così facile creare una narrazione scientifica che sia terroristica piuttosto che una narrazione scientifica che sia più coerente e che la faccia uno scienziato però per noi non è semplice vuol dire io partecipo a tanti dibattiti e in un certo senso mi sento sempre in una posizione di inferiorità nel senso che io scienziato vengo messo di fronte a un non scienziato il non scienziato può dire qualsiasi cosa che dica una cosa vera o falsa non è grave per me io sento di avere un'etica professionale e devo dire quello che le evidenze scientifiche sostengono e molto spesso quello che sostengono non è sì o no più delle volte forse con una certa probabilità eccetera e quindi non è facile discutere con uno che ti dà verità assolute cercando di rispondergli in base a quelli che sono i corretti i canoni scientifici chiaro non è facile però questa non deve essere una scusa per aver paura nel senso perché laddove c'è un vuoto il vuoto viene riempito per cui presidiare il territorio in maniera consistente perché ripeto il problema è che alcune volte le cavolate vengono pure dal mondo scientifico stesso nell'ambito delle fake news è una cosa che va tanto di moda l'algoritmo della verità scientificamente algoritmicamente informaticamente parlando non è possibile avere un software che distingue che cosa è vero da che cosa è falso perché nel momento in cui gli chiedo questa frase è falsa dimmi se è vero o falso lui si impalla ok cioè è proprio un limite un limite forte alcuni accademici proprio la nostra roba per vendersi quindi c'è un po' la tendenza al marketing al business model della scienza dell'overselling è proprio intrinseco pure nella scienza stessa quindi formulare i risultati in maniera tale che siano appealing per l'ambito mediatico in maniera tale che ti citino e finanziino di più io ne sono una delle vittime principali a livello di marketing ce la creiamo anche abbastanza bene c'è da dire da questo punto di vista il punto è che nella comunicazione stessa diretta io sono più spaventato dall'accademico che da chi non è accademico perché quando ti trovi l'accademico che la spara grossa per fare scena fa più danno di quanto non ne faccia l'altro cioè motivo lui diceva prima del fatto dei terrapiattisti perché ne hanno parlato effettivamente che motivo c'è di dar voce ai terrapiattisti Innovax solo 0,7% della popolazione totale Facebook 0,7 cioè noi ne riparliamo gli diamo ulteriore visibilità gli facciamo milioni di pubblicità ogni volta che parliamo di questo argomento forse c'è un attimino da ripensare alle dinamiche dialettiche di filtro la scienza secondo me sta in una fase di frustrazione sua personale un po' si vergogna ad uscire fuori e comunicarsi io vengo dai castelli romani noi abbiamo la fede nella porchetta per esempio e una cosa che abbiamo cominciato a fare è bufale e porchetta parlare di bufale con la porchetta entrare in un meccanismo dialogico e maieutico diciamo dove si parte non da io ti racconto che cosa è la scienza ma ti chiedo tu che ne sai delle fake news e comincia tutto un dibattito che genere dura per ore e ore e fomentato dal vino finisce risate la scienza si è ben comunicata è una delle cose più belle e interessanti che abbiamo a disposizione dobbiamo darci da fare e uscire dalle torri d'avorio e dai baronati e dai settori disciplinari che è un altro problema enorme qui che siamo in Friuli invece della porchetta facciamo più il bicchiere di vino però è una questione di tradizioni Giuseppe Tom Nichols ha scritto un interessante libro che si intitola La conoscenza e i suoi nemici l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia parlare di questa come l'era dell'incompetenza è in modo giusto sei d'accordo su questo pessimismo o tu sei più ottimista circa il futuro ma diciamo che la lettura di quel libro è stata per me interessante perché mi ha aiutato a formulare meglio alcune idee che avevo per il mio la tesi non è particolarmente innovativa però vale la pena brevemente ricostruirla la tesi di Nichols che io condivido Nichols insegna sia in un'accademia militare sia ad Harvard ed è un conservatore tra l'altro si capisce anche dalla lettura del suo libro è un conservatore come dire di quei conservatori però che sanno argomentare quindi in questo momento dare a Nichols il conservatore è suggestivo il maestro dei miei maestri Luciano Gallino ci raccontava quando eravamo ancora a dottorandi che ormai lui era finito per essere etichettato come un estremista di sinistra dice ma io sono sempre stato un liberale abbastanza anche come dire moderato ho iniziato la carriera in Olivetti siete tutti voi che vi siete spostati verso l'estrema destra e sono io finito per diventare come dire estremista di sinistra senza essermi mai mosso da dove ero chi ha letto i suoi libri i suoi lavori lo sa e Nichols penso che sia più o meno nella stessa posizione perché punta il dito non tanto sui social su Google cioè sui come dire sui colpevoli indicati da foer ieri per chi era al premio quelli li riconosce ma sono un mezzo non sono come dire una causa la causa lui la vede molto bene nel sistema accademico americano ma quando io leggevo quel libro gli dicevo è beato te che non conosci il sistema accademico italiano perché se lo conoscessi sapresti come dire che la situazione è ben peggiore di quella che tu vedi perché lui se la prende semplicemente per modo di dire sul fatto che ormai le università sono diventati dei diplomifici che vengono scelti più per la carta il marketing che fanno i fogliettini che ti dicono quanti sport e quant'è lunga la piscina che c'è in quel college che è per altre per cui l'università e questo è vero da esperienza sconfortante nel senso proprio letterale del termine che fa uscire dalla zona del comfort la studentessa e lo studente è diventata una sorta di villaggio vacanze che ti accompagna con tutti i comfort e che ti dà un certificato sulla base delle presenze che hai fatto neanche delle competenze a memoria che hai acquisito ora il problema è innanzitutto questo perché questo ci aiuta a capire perché poi i principali assetti cognitivi pseudoscientifici si ritrovano tra chi quel titolo di studio l'ha preso non tra mio nonno che era analfabeta in calabria ed è andato in miniera in belgio durante la guerra per sfamare quattro figlie cioè gli assetti pseudoscientifici si trovano tra coloro che hanno fatto un percorso di studio più o meno come scegliamo su booking il posto dove andremo quest'estate perché non sono del tutto pessimista non sono del tutto pessimista perché io sono profondamente convinto che noi stiamo qui a discutere di una questione ingigantita e transitoria tra qualche anno non ci saranno più questo tipo di discussioni perché o non avremo più la libertà di farle o non ci renderemo conto più dell'urgenza di farle oppure come credo io ci saranno delle nuove corti che si stanno formando adesso di scienziate e scienziati che avranno acquisito nel loro percorso di studi le competenze umanistiche e sociologiche per poter essere attrezzate a stare nel mondo questo secondo me è il futuro positivo che io vedo allora grazie a Giuseppe per questa nota di ottimismo devo sottolineare che sono perfettamente d'accordo con te però nel sistema universitario italiano al momento è pressoché realizzabile perché noi abbiamo adesso questi sono tecnicismi ma purtroppo è la realtà con cui noi dobbiamo convivere il sistema dei settori disciplinari e poi abbiamo le classi di laurea rigidissime che non consentono di costruire percorsi che siano interdisciplinari quindi speriamo che chi vuole capire questa lezione la capisca e capisca che in nome del valore legale del titolo di studio non possiamo sacrificare la possibilità di formare gli studenti con le competenze che dovrebbero avere e sono d'accordissimo che dovremmo introdurre tutta una serie di competenze trasversali fra l'altro abbiamo qui in prima fila il vicepresidente dell'ANVUR che è quello che ci sorveglia speriamo che lo voglia capire e che riesca a instillare nel ministro e nel suo potentissimo direttore generale il seme della saggezza per andare in questa direzione io ringrazierei gli ospiti adesso apriamo le domande del pubblico credo che il dibattito sia stato interessante ma vorremmo sentire cosa ne pensate voi ci sono domande? grazie per il dibattito è stato molto bello io sono arrivato in ritardo non vorrei che aveste già parlato di questa cosa mi sembra che le soluzioni proposte cioè le istituzioni più forti più legate al mondo della scienza che capiscano meglio le cose sappiano comunicarle la fiducia non sono sicurissimo che sia una soluzione per un problema più complesso volevo portare un esempio un po' più di 80 anni fa qui vicino il Duce Mussolini proclamò le leggi razziali vi ricordate questo orribile periodo ora le leggi razziali era un periodo in cui le istituzioni avevano la fiducia dei cittadini molta fiducia dei cittadini sappiamo che il fascismo ma anche il nazismo insomma godevano della fiducia dei cittadini in più le leggi razziali erano scientificamente o almeno accademicamente sostenute c'era stato non ricordo i dettagli un manifesto credo firmato da 30 accademici che sostenevano che questo aveva una base scientifica la gente ci credeva il regime era molto contento e in qualche modo il fatto che ci fossero grandi razze e piccole razze e che la razza ebraica che era piccola dovesse essere epurata dalle università e dalle scuole aveva un certo supporto scientifico allora questa orribile storia ci spiega che forse le cose sono un po' più complesse della fiducia nell'accademia nella scienza sì ma tra scienza e accademia forse c'è una differenza e che le istituzioni forti di cui noi in particolare noi italiani non ci fidiamo e come sappiamo e come qualcuno dei relatori ha detto ci sono ottimi motivi per non fidarci grazie prima di far rispondere a questa domanda che trovo interessante i nostri ospiti vorrei ricordarle che comunque il manifesto sulla razza non fu firmato da tutti gli scienziati e che anzi la maggioranza degli scienziati dell'academia e dei lincei non lo firmò e per questo l'accademia venne sciolta e il regime fascista si creò la sua accademia quindi in qualche modo non possiamo dire che quella fosse la posizione della maggioranza degli scienziati italiani questo rischio comunque c'è sempre voglio dire una delle cose su cui diciamo troviamo più difficoltà è quando ci dicono la comunità scientifica è divisa ma quando dicono la comunità scientifica è divisa molto spesso è perché c'è una voce che dice una cosa ce n'è 999.999 che dicono l'altra che è probabilmente quella più corretta e non è giusto mettere a confronto uno contro 999.000 nell'ottica dell'uno vale uno sì però nella scienza purtroppo non funziona così vorrei che rispondeste voi quindi a questa domanda sì è più complicata di così decisamente è più complicata di così ma la sfiducia cioè e se non facciamo qualcosa per ritornare in una modalità di dialogo cioè fondamentalmente senza farla troppo edulcorata cioè l'elite deve fare un servizio alla società non gode di diritti pregressi che deve esercitare in nome di un diritto divino ok quindi entrare in un contesto in cui la scienza abbia un suo valore perché l'ha guadagnato cioè l'autorevolezza non ce l'ho perché parlo dalla cattedra perché se dico cavolate lo studente esce dall'aula se ne accorge subito l'autorevolezza la concede l'interlocutore quindi se viviamo in un contesto in cui io devo aver paura di parlare con qualcuno che argomenta sulla terra piatta senza assolutamente io abborro ogni meccanismo di polarizzazione e di aggressione ma se io da scienziato devo aver paura di dialogare con qualcuno che pensa che la terra è piatta probabilmente c'è qualche problema dal punto di vista della comunicazione della scienza ovvero se noi non entriamo in un'ottica in cui che quello che facciamo va raccontato la terza missione ha anche nel suo la diffusione dei risultati che vengono trovati rischiamo di far riempire quel vuoto dal nulla e bisogna stare molto attenti anche ad un'altra ripiega da questo punto di vista perché c'è anche un altro pericolo quando la scienza diventa politica la scienza non deve avere a che fare nulla con la politica deve essere indipendente dal regime politico per cui è stato proposto il famoso patto trasversale per le scienze biometiche che è un po' ingenio insomma scienze biometiche la racconta un po' a modo suo la struttura però in qualche modo l'iniziativa è quella di dire ragazzi la scienza sa questo se vi diciamo una cosa più o meno è quella è quella realtà scientifica anche se il discorso non è particolarmente discusso cerchiamo di dibattere su quello non sulle supercazzole questo è uno dei problemi principali ok spero di aver Alison per rispondere più direttamente sulla forza delle istituzioni c'è un aspetto che voglio chiarire un paese con delle istituzioni forti all'epoca non avrebbe permesso l'adozione delle leggi razziali questa è la mia definizione di istituzioni forti c'è le istituzioni forti che proteggono la società da atrocità come quella delle leggi razziali quindi le istituzioni di cui parlo le istituzioni di cui parlo sono la magistratura questa è importantissima fondamentale istituzione alla base delle nostre democrazie negli Stati Uniti ci sono degli standard che riguardano il parere esperto scientifico reso in tribunale durante un processo e questo protegge il tribunale dalla pseudoscienza questo perché si dice la testimonianza scientifica deve basarsi su un metodo scientifico e se applicata correttamente questa prassi esclude la possibilità di avere la pseudoscienza secondo la quale alcune malattie come la xylella alcune patologie non sono causate da virus ma da chissà cosa insomma lo stesso dicasi delle istituzioni politiche quelle delle nostre governance come ho detto le agenzie scientifiche dei governi hanno funzionato bene ma non sono rimaste in contatto con le istituzioni politiche e il governo non ha ascoltato questi pareri scientifici credo che tu abbia toccato un punto fondamentale perché forse non tutti sanno che i giudici quando devono trattare una questione che ha degli elementi che riguardano la scienza hanno l'arbitrio totale nella scelta del loro consulente tecnico d'ufficio e devo dirvi che molto spesso quelli che vengono scelti sono totalmente inadeguati e privi di qualsiasi credenziale scientifica ma lo stesso vale per i nostri politici i politici fanno le audizioni nelle commissioni parlamentari e chiamano chi vogliono non è che siano a guardare anzi molto spesso chiamano quelli che servono a sostenere la tesi che loro vogliono portare avanti purtroppo è difficile che si riferiscono alle fonti ufficiali ed autorevoli e questo credo che sia buona parte del problema e il problema in Italia è che non c'è possibilità di reagire ringrazio per la domanda che secondo me è molto interessante siccome sono sempre quello delle captazio benevolenza di prima sottolineerò che da un punto di vista logico e retorico la sua domanda è macchiata da una fallacia di ragionamento che adesso proverò spero di non incartarmi infatti ho preso degli appunti perché avendo un calo di zuccheri avendo un po' fame è facile che i miei pochi neuroni si confondano e sbaglino strada ma d'altronde anche Colombo si era sbagliato quando ha scoperto l'America ora la fallacia sta in un confronto che lei fa nel senso che lei produce un'analogia tra un contesto storico ben preciso nel quale non c'era libertà non c'era più libertà di associazione non c'era ovviamente quindi una parte di quel dissenso che ci sarebbe stato e una parte anche di quella spaccatura che comunque è avvenuta all'interno della comunità scientifica è avvenuta per delle premesse che non è legittimo sottacere perché lei l'ha fatto in buona fede non ho dubbi e anzi la sua domanda è stato uno spunto interessante quindi la ringrazio non entro in polemica con lei voglio chiarirlo però mi aiuta anche a spiegare come nel mio libro mostro come funziona il ragionamento pseudoscientifico che se non ci fai attenzione risulta anche credibile nel senso che devi proprio ragionare per capire dov'è il punto che fa problema qui il punto che fa problema è che non possiamo ancora magari tra qualche tempo lei magari sta prevedendo quello che tra poco tempo capiterà di nuovo ma non possiamo paragonare quel contesto con questo contesto perché in mezzo è successo quello che adesso le leggo articolo 18 della costituzione i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale sono proibite le associazioni segrete quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare poi nel dodicesimo dispositivo transitorio finale c'è che è proibito la ricostituzione del disciolto partito fascista quanti di voi si sono letti come siamo arrivati qua a questo articolo 18 per curiosità quanti hanno letto il dibattito trascritto che nella sottocommissione sull'articolo 18 ha portato a questa formulazione nei lavori dei padri costituenti solo per curiosità quanti hanno letto cosa la sottocommissione si è detta per arrivare a questa formulazione ok io ero tra voi prima che scoppiasse il casino del salone del libro nel senso che sapevo l'articolo 18 perché la mia professoressa di filosofia che Dio la benedica anche se lei era atea mi ha costretto a studiare la memoria in terza liceo e quindi lo so perfettamente cosa diceva l'articolo 18 ma non avevo mai letto come eravamo arrivati qui cioè per me era un dato esogeno qui si è arrivati perché come dire lo spirito santo laico dei padri costituenti ci ha portato qui non è andata così la Pira aveva proposto un emendamento che vedeva molto convinto anche il nostro compianto Aldo Moro che diceva questa cosa scusate se sono prolisso diceva il suo emendamento queste parole qui aveva provato a far inserire questa clausola che diceva è proibita ogni associazione la quale contrasti con la costituzione cioè l'emendamento la Pira che oggi voteremmo subito firmeremo e anche ripeto uno statista come Moro vedeva di buon di buon grado diceva fondamentalmente che la libertà di associazione doveva essere sottoposta e censurata se violava tutte le altre libertà della costituzione venne bocciata adesso non vado per le lunghe ma venne bocciato con questa argomentazione la nostra carta deve rimanere per una democrazia aperta perché non sappiamo questa clausola quale nefandezze tra 10 20 30 anni potrebbe portare con la scusa di voler provare a bloccare un nuovo emergente fascismo anche a costo di autorizzare il pensiero e l'associazione purché non militare purché non nelle forme anche propedeutiche del disciolto partito fascista anche a costo di autorizzare il libero pensiero di chi vuole discutere purché lo faccia democraticamente la distruzione dell'assetto che qui stiamo costruendo e questo è il nostro anticorpo e a concludo non sono parole mie con un altro bel libro che è uscito nell'84 di Paolo Barile nel quale diceva sapete perché questa cosa alla fine anche se ci spaventa è buona perché la democrazia non si protegge dalle forze nemiche a mezzo di norme giuridiche perché nel momento in cui la democrazia muore nel cuore del popolo nessuna forza giuridica potrà farla risuscitare ecco perché è importante avere momenti come questo ecco perché mi permetto di aggiungere la situazione descritta dalla domanda ripeto molto opportuna interessante e al momento molto diversa dalla situazione che stiamo vivendo noi grazie Franca abbiamo tempo ancora per una domanda se c'è o meglio che chiudiamo ma ci sono i loro che funzionano meglio non sentiamo adesso sì volevo fare una domanda riguardo a questa proposta che è stata fatta da parte di un filosofo inglese all'inizio di quest'anno si tratta di aprire un giornale una rivista accademica intitolata giornale delle idee controverse questo è dovuto al fatto principalmente che nel corso degli ultimi anni l'erosione della distinzione tra accademia e non lo so siti come siti in cui si discute come twitter o come facebook ha fatto sì che determinati accademici abbiano ricevuto anche minacce di morte non parlo nello specifico del sapere scientifico ma più che altro di quello di determinate teorie filosofiche e cose di questo tipo soprattutto in campo etico e quindi volevo chiedere cioè questo mi sembra un chiaro effetto della possibilità che esiste nel mondo contemporaneo da parte di chiunque di accedere a discorsi che sono piuttosto specialistici e che quindi in un certo senso rischiano di porre l'accademico in una posizione di difficoltà cioè a me sembra di vedere questa proposta come una battuta ritirata da parte del mondo scientifico nei confronti della difficoltà di invece comunicare dialogare con la popolazione più comune appunto non specializzata in un determinato sapere o in una disciplina grazie Walter vuoi rispondere tu brevemente provare a affrontare questo tema sarò impopolare quanti umanistici sono qua dentro ecco vabbè quindi non mi non mi chiederò diciamo che però c'è un cambiamento di paradigma rispetto a sta cosa il dibattito è vero i social hanno aperto il dibattito a chiunque questo è inevitabile e un bene secondo me perché se ti arriva la critica devi sapere rispondere cioè lo devi spiegare anche a un bambino di 5 anni a me se mi arriva qualcuno e mi chiede come avete fatto quel meccanismo per capire come la dimostrazione dei flussi di diffusione di informazione lo devo spiegare lo so ho fatto lo spiego poi se non mi crede è un altro problema il punto è che non possiamo pensare nell'ottica che l'autorevolezza va ripristinata con l'idea di anziani regime pensare che ci mettiamo la parrucca e ritorniamo al grande cattedra che ci impartiamo e facciamo estrema unzione la scienza diventa una nuova istituzione religiosa perché voglio dire a quello stiamo andando incontro la scienza che ragiona per dogmi non esiste sta cosa la scienza non è democratica la scienza non è che non è democratica la scienza non c'entra niente con la democrazia ma è un problema è un sistema che ha dei meccanismi di terciità interni molto forti a volte politicizzati addirittura quindi c'è un meccanismo che evolve e il fatto che noi stiamo perdendo credibilità secondo me è colpa nostra strettamente parlando perché la materia controversa la complessità del tema significa che devo fare dei corsi pure ai giornalisti anche a chi fa decisioni politiche su temi di complessità statistica incertezza gestione delle risposte complesse altrimenti non siamo in grado di parlare mancano proprio i fondamenti principali su cui andiamo a dialogare e spesso il giornalista che ti chiama per chiedere come è andata o come interpreti quello studio quelle nozioni di incertezza e complessità non ce l'ha quindi è un problema di evoluzione e dobbiamo torci di tutti rimboccarci le maniche e metterci a lavorare in questa direzione di un mondo che fortunatamente cambia non lo so se lui si candida io lo vo dove devo firmare non posso aggiungere molto se non che il problema è proprio quello la parte diciamo limbica del nostro cervello non mi voglio addentrare in cose che non sono la mia materia ma di cui mi sono comunque dovuto documentare per capire alcune cose non si è particolarmente voluta mi pare ed è stata molto utile però a farci sopravvivere in ambienti ostili ecco dobbiamo capire tutti tutti noi coinvolti in questo processo che è collettivo di produzione del senso sulla conoscenza esperta questa componente ce l'abbiamo tutti e ce l'abbiamo perché è stata utile a farci sopravvivere in altri contesti e non è ignorandola non è insultandola non è ritenendola ignorante che il problema si risolve perché quando dovevamo scappare di fronte alle minacce ed eravamo un uomo di cacciatori non era chiaramente il principio popperiano di falsificabilità quello che ci veniva in aiuto era l'istinto di scappare se dovevamo scappare o di lanciare una lancia prima di altri o di nasconderci e mimetizzarci insomma da Simon Kenneman in avanti lo sappiamo che queste cose ormai non sono rimaste in epoca primordiale ma sono come dire si palesano di fronte a nuove incertezze che spesso vengono vissute come minacce perché non perché siamo regrediti e rincoglioniti permettetemi il termine non ho detto neanche una parolaccia per me è strano ma perché il contesto è insicuro cioè il contesto nel quale viviamo è insicuro questo ce lo ha spiegato anche Ulrich Beck alla vigilia dell'esplosione di Chernobyl peraltro cioè la scienza nel produrre risposte solleva nuovi dubbi questo è scontato lo diceva Beck lo diceva Bobbio ed è anche un po' il nostro mestiere fare così il problema è che più che al nozionismo dovremmo educare a convivere con queste dinamiche cioè è la parte più interessante della scienza questa è chiaro che insomma come a me davanti a una finale di Champions verrebbe la tramarella perché non sono un calciatore è normale che chi non frequenta questo tipo di conoscenza si autotuteli e sia preoccupato ma da qui a stigmatizzare questo comportamento ce ne passa grazie io chiuderei perché credo che tutti noi abbiamo sempre meno neuroni attivi ringrazierai i nostri ospiti grazie a tutti 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 grazie a tutti